Cari amiche, cari amici, buonasera, benvenuti a Briefing. Sono ospiti questa sera della nostra trasmissione Linda Labarbera dell'Associazione Culturale Alice e Isidolo Africano, direttore amministrativo del Giardino di Campanellino. Buonasera entrambi. I nostri ospiti si prendono cura dei bambini, quindi la loro attività è rivolta ai più piccoli. Naturalmente la domanda è proprio questa, come avete organizzato questo periodo di pandemia per avere questo rapporto ancora diretto con i vostri piccoli? Linda. Allora, diciamo che noi i nostri bambini a licea riguarda una fascia di bambini molto piccola, quindi che va dai 12 ai 36 mesi, quindi diciamo principalmente quello che conta è proprio il contatto, la fisicità con i nostri bambini. Però nonostante tutto noi siamo stati presenti giornalmente garantendo una routine ai nostri piccoli, quindi non perdendoci, non perdendo proprio la nostra visibilità, il nostro contatto, la nostra timbrica vocale. Insomma, siamo stati presenti attraverso delle videochiamate presentando e cercando di continuare la nostra attività educativa, perché noi essendo un servizio alternativo, differente dalla scuola dell'infanzia o da un qualsiasi nido, diciamo che abbiamo progettato delle attività differenti, di gioco, ludiche, ricreative, insomma, garantendo così una continuità, come dicevo, ai nostri bambini e mantenendoci presenti sempre giornalmente. Ecco, come si sono prosti i vostri bambini alle vostre sollecitazioni via web? Allora, devo dire che abbiamo avuto un riscontro positivo e sostanzialmente fino a poco tempo fa, e non ce l'aspettavamo, perché fino a poco tempo fa era proprio sconsigliato, diciamo, l'uso del social, della visibilità, questi contatti informatici, diciamo, tecnologici da presentare ai bambini. Quindi diciamo che mettere un bambino davanti uno schermo, davanti un video, non è semplice. L'attenzione del bambino viene meno. Quindi siamo stati appunto presenti, mettendoci proprio in primo piano, facendoci sentire attraverso anche delle canzoncine, dei racconti, dei giochi noti a loro, che facevamo giornalmente con loro. E quindi cercando di ricollegare anche a livello, diciamo, di ricordo, i bambini a noi. Bene, Isidoro, anche voi so che avete svolto diverse attività a distanza e siete stati aiutati in questo compito anche dai genitori, è vero? Assolutamente sì. Io ovviamente inizialmente volevo ringraziare tutti i genitori perché attraverso di loro, la loro fattiva collaborazione, ovviamente abbiamo il riscontro positivo da quelle che sono, diciamo, le nostre attività proposte. Ovviamente c'è da fare una premessa che purtroppo non tutti possono usufruire di mezzi tecnologici o quantomeno di poter seguire le video lezioni attraverso quelli che sono anche dei webinar molto semplici, perché purtroppo magari hanno nel cellulare poca memoria o magari non hanno proprio un PC. Quindi da questo punto di vista ci siamo dovuti inizialmente già scontrare con la prima difficoltà. Quindi abbiamo cercato di utilizzare quelle che sono le comunicazioni attraverso WhatsApp o le videochiamate attraverso Messenger, perché magari sono canali molto più semplici e più facili da utilizzare. Quindi da questo punto di vista abbiamo attivato ovviamente i processi di formazione attraverso questi canali. È chiaro che abbiamo cercato di utilizzare anche le forme alternative, quindi quelle che sono le video lezioni, anche le storielline realizzate con programmi sempre digitali e quindi per rendere ovviamente a loro l'aspetto educativo e formativo sempre molto più semplice. Come diceva anche Linda, abbiamo cercato di mantenere il contatto proprio visivo, anche se noi sappiamo benissimo che la vita a scuola è fatta proprio di contatto. Questo è quello che oggi ai bambini viene a mancare tanto e che giornalmente ci viene richiesto anche attraverso dei semplici messaggi vocali inviati proprio dai bambini stessi. A proposito di questi messaggi, dicci qualcosa che i bambini vi hanno detto. Allora, ovviamente diciamo noi al nostro interno abbiamo quasi tutto il polo dell'infanzia, non quasi, tutto il polo dell'infanzia che va dai zero fino ai sei anni. Ovviamente per diversi aspetti ognuno a suo modo esprime la loro felicità nel vedere le docenti o nel sentire anche una canzoncina o una video lezione, mandando dei messaggini graziosissimi anche per chi come la nostra cuoca si prende cura anche di loro attraverso, diciamo, qualche carezza, una parola d'affetto e quindi ci chiedono spesso di sentire le vocine o quantomeno ci mandano dei messaggini con i cuoricini, dei bacetti, vi vogliamo bene. Quindi questo è un qualcosa che ovviamente anche a distanza c'è tempo al cuore, ecco. Linda, per esempio che voi avete organizzato delle attività particolari anche per Pasqua, cioè il periodo non ve lo siete lasciati scivolare inutilmente? No, assolutamente. Seguiamo proprio costantemente tutto quello che potremmo fare, diciamo, a scuola, lo ripetiamo, lo riprendiamo anche a casa. Quindi abbiamo fatto dei laboratori creativi, abbiamo riproposto anche simbolicamente la palmetta, anche se l'abbiamo fatta con la carta, perché non essendoci la possibilità giustamente di uscire, abbiamo cercato di riproporre con materiali semplici e di riciclo, perché essendo lì c'è anche quest'anno il progetto educativo impiantato anche, è gettato giù con le basi proprio del riciclo, dell'attività. Abbiamo cercato di utilizzare materiali semplici per proporre questi, diciamo, laboratori. E devo dire, ci siamo riusciti a pieno, perché i genitori non hanno avuto difficoltà nel reperire i materiali e quindi i bambini hanno lavorato con piacere. Bene, mentre Linda posiziona meglio la telecamera, perché si è alzato un pochettino, con Isidoro, volevo adesso cominciare dal secondo step delle domande, quello relativo alla ripresa. Oggi, insomma, questa settimana stanno riprendendo un pochettino di attività. Allora, speriamo che al più presto possano riprendere anche le vostre, ma probabilmente se ne parlerà ormai col prossimo anno scolastico. Cosa state facendo nei vostri locali? Come li state organizzando? Quali accorgimenti state prevedendo? Allora, intanto noi proprio perché risultiamo e siamo una scuola parietaria, ovviamente attendiamo quelle che sono le indicazioni da parte del MIUR, quindi dal Ministero dell'Istruzione e quindi dai vari orientamenti nazionali. C'è da dire che noi comunque già in prima fase di chiusura, ovviamente avevamo utilizzato quei cinque giorni di chiusura proprio per creare e fare sanificazione ulteriore e quindi cercare di mettere nelle condizioni possibili la nostra struttura fruibile all'utenza. È chiaro che oggi quello che circola non è molto positivo, nel senso che ovviamente queste distanze sociali ci permetteranno o meno, non ci permetteranno di fare un certo tipo di didattica in presenza con molti bambini, ma ovviamente dovremmo ridimensionare quello che è il numero, ovviamente considerando il fatto che le nostre strutture, essendo proprio paritarie, hanno un deficit che è quello praticamente economico e quindi da questo punto di vista dobbiamo capire come il Governo nazionale intende svolgere questa didattica nelle nostre strutture. È chiaro che noi siamo disponibilissimi anche nell'immediato a qualsiasi offerta o soluzione ci venga proposta, perché è chiaro, come dicevo poc'anzi, il rapporto umano-docente-bambino non è la stessa cosa dal punto di vista digitale. Linda, la stessa cosa anche per voi. Avete pensato come organizzare questo distanziamento sociale e soprattutto anche come organizzare la disposizione dei locali? Allora, la nostra, diciamo ricollegandomi a quello che ha detto Isidoro, la nostra è una realtà differente. Diciamo che noi da sempre abbiamo sempre, diciamo, igienizzato, svenificato le nostre strutture, i nostri locali sono molto raccolti, intimi, quindi non abbiamo locali dispersivi, però abbiamo la possibilità di sfruttare i diversi ambienti. Quindi, come abbiamo sempre fatto, noi abbiamo lavorato sempre con microgruppi in diversi ambienti. Quindi la soluzione, diciamo, con noi viene facile, cioè nel senso distribuire proprio pochi bambini con un operatore nelle diverse, diciamo, nei diversi locali di Alice, diciamo, della struttura. Quindi, per quanto riguarda l'igiene, la sanificazione abbiamo già provveduto a priori, l'abbiamo sempre fatto. La nostra è una situazione, noi piace definirci una casa fuori casa, perché proprio essendo un ambiente molto familiare, la pulizia e l'igienizzazione è molto accorta. Quindi l'abbiamo sempre fatto, lo continueremo a fare, ovviamente adesso con le disposizioni di legge previste. Bene, io penso che entrambi non avete bisogno di pubblicità, perché so che, insomma, la gente vi preferisce, i vostri servizi sono veramente di eccellenza. Però, in ogni caso, vediamo di nucleare quali sono i servizi che offriti all'utenza. E Isidore? Allora, noi ovviamente, diciamo, come dicevo poc'anzi, abbiamo il polo dell'infanzia, quindi ci muoviamo con micronito, sezioni primavera e sezioni infanzia. Da questo punto di vista, ovviamente, abbiamo nel micronito dai 0 a 1 anno, poi abbiamo dai 24 ai 36 mesi, che è la sezione primavera, e poi le due sezioni di infanzia, che vanno praticamente dai 36 mesi ai 5-6 anni regolari. Ovviamente, considera che, essendo inseriti nel contesto di istruzione pubblica, noi chiaramente ogni anno, ogni 3 anni, quantomeno, siamo tenuti a redigere quello che è il programma di offerta formativa, dove ovviamente si va a tenere conto di quelle che sono praticamente i campi di esperienza e quelle che sono le competenze da raggiungere per ogni singolo bambino. Ovviamente, quando si va a stilare quella che è la nostra programmazione, si va a valutare quello che è lo status della sezione, in modo tale da poter dare una programmazione obiettiva e oggettiva per ogni singolo bambino, in modo tale da non lasciare indietro nessuno. Ovviamente, questa programmazione segue quello che è ovviamente leader per ogni sezione, quindi il nido ha un percorso totalmente differente, basato anche su percorsi sensoriali, percorsi per cui il bambino comincia a elaborare i suoni, il tatto e così via, come nella sezione primavera, magari iniziano con quelli che sono le fasi dei colori primari, anche a cominciare a inserire un processo linguistico più chiaro e quindi da questo punto di vista andiamo a inserire quello che anche nell'infanzia facciamo, il percorso di accompagnamento per quanto riguarda i bambini che vanno poi alla primaria. Ovviamente nella programmazione teniamo conto del fatto che la nostra struttura è di orientamento cristiano e quindi in questo periodo, quindi sia dall'inizio dell'anno scolastico che alla fine utilizziamo le varie festività o i vari progetti quindi stagionali o semplicemente anche il mese di settembre che è il processo più complicato a volte per i bambini perché è il processo di distacco da parte dei genitori che in quel momento rappresentano l'unica forma di certezza, quindi c'è questo distacco tenendo conto che ogni bambino ha un distacco a sé, quindi dobbiamo considerare i vari aspetti psicologici e tenere conto ovviamente di quello che è la situazione in quel momento, dando ovviamente certezze e sicurezze al bambino e creando ovviamente le basi per poter fare una crescita educativa e formativa eccellente. Ecco Linda, invece la vostra offerta formativa per i vostri bambini? Allora noi diciamo da liceo abbiamo servizi diversificati perché come dicevo prima la nostra è una realtà alternativa, quindi diciamo noi offriamo uno spazio baby mattutino che va dai 12 ai 36 mesi dove viene garantito appunto, viene gettato un servizio educativo ma con differenti approcci per venire incontro alle esigenze proprio delle famiglie e dei bambini stessi, quindi diamo la possibilità anche di scaionamento orario, la possibilità anche di scaionamento settimanale, quindi i bambini hanno la frequenza alternata, possono avere una frequenza giornaliera come possono avere una frequenza invece di tre volte a settimana o anche addirittura ludica, semplicemente ludica quindi giornalmente, proprio per venire incontro come dicevo poc'anzi alle esigenze dei bambini e delle famiglie stesse. Questo per quanto riguarda lo spazio baby mattutino, per quanto riguarda invece i servizi pomeridiani abbiamo differenti, sono i servizi appunto di post scuola, servizi ludici, servizi ricreativi, la formazione di inglese dove c'è un progetto molto carino che viene appunto associato con la glottodidattica, quindi una cosa differente attraverso la drammatizzazione, abbiamo avuto una risposta positiva quest'anno proprio in merito a questo progetto, poi ci sono i progetti diciamo di creatività e insomma vertiamo su tante su tante basi. Abbastanza aggettonato se non ricordo male il Pijamino Party. Poi quello è quello il serale che garantiamo se il Pijamino Party è proprio sempre su richiesta, devo dire che non ci bastiamo perché diciamo di questo ce ne occupiamo personalmente io e è la mia collega, Cetti Grasso, e quindi diciamo che a volte non bastiamo, non bastiamo per far fronte diciamo alla richiesta del Pijamino Party, che poi è particolare perché dà l'opportunità appunto ai genitori veramente di rilassarsi, prendersi dello spazio, noi essendo genitori anche noi capiamo e ci mettiamo proprio nei panni dei genitori stessi. Bene, io vi ringrazio, ringrazio Linda Labarbera dell'Associazione Cultura Alicee, ringrazio Isidoro Africano del direttore amministrativo del giardino di Campanellino per la loro presenza, per avere appunto illustrato quelle che sono le loro attività e purtroppo queste criticità di questo periodo, ringrazio per la collaborazione i nostri tecnici Ignazio Africano e Giuseppe Rizzo che hanno permesso questa trasmissione che potrete vedere sugli schermi di Futura Vision e di Il Pungolo. Grazie a tutti, buonasera.